Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, la Marvel sta uccidendo il cinema, il Marvel Cinematic Universe, sta seppellendo il grande cinema del ventesimo secolo, sta mandando in soffitta il mondo del cinema novecentesco. A sentire i giudizi di alcuni grandi registi americani sembrerebbe di sì. Già nel 2019 Martin Scorsese aveva detto quello della Marvel non è cinema in occasione della presentazione del film The Irishman. E poi ancora Coppola ha aggiunto un carico da novanta dicendo sei stato buono Martin, questi film sono spreggevoli e quest'anno anche in seguito all'insuccesso di alcune sue pellicole Ridley Scott ha detto sono noiosi e senza sceneggiatura e addirittura nell'ultima settimana colui che detiene il record di incassi cinematografici, tra i più grandi incassi cinematografici, ovvero James Cameron che appunto con Titanic e poi con Avatar e altri dei primi posti degli film più di successo ha detto non sono per nulla epici. Come affrontiamo le questioni sollevate da dei mostri sacri del cinema? Perché Coppola e Scorsese ci hanno regalato film incredibili, basta pensare appunto a Apocalypse Now e poi chiaramente il padrino, Taxi Driver, parliamo dei maestri del cinema americano Ridley Scott che ovviamente a partire da Alien per arrivare a Thelma Lewis ha realizzato delle pellicole stupende ricchissime dal punto di vista proprio della narrazione, dell'avventura, dei personaggi delineati, delle storie appunto fatte emergere con vigore e con dimensione anche epica il gladiatore e James Cameron da Terminator appunto ad Avatar ha segnato alcuni anche dei grandi blockbuster e mi viene da dire che quando uscì Avatar molti registi dissero ma quello di Avatar non è più cinema allora che risposta diamo? Eliminiamo subito una risposta un po' cafona beh sono dei boomer, non capiscono il nuovo cinema, sono rimasti chiusi nel novecento lasciamoli pure parlare, anzi ultimamente incassano di meno sarà per quello che criticano il Marvel Cinematic Universe questa risposta non funziona, è superficiale oltre che essere appunto un po' cafona può accadere che alcuni legati ad un mondo vecchio che sta tramontando non riescano a capire il nuovo mondo però è anche vero che il loro giudizio sul cinema proprio sulla narrazione, su quel modo di fare appunto film c'è una seconda risposta che non possiamo così abbracciare in toto anche se qualcuno dice, vabbè lasciamo stare queste affermazioni il botteghino parla chiaro, i film della Marvel incassano e questo chiaramente per il mondo del cinema è comunque un bene per l'indotto, per le maestranze, per le sale perché l'ultimo Spider-Man, No Way Home ha di fatto realizzato un incasso già solo nella prima settimana da risanare gran parte delle perdite di un 2021 ancora pesantemente segnato dal Covid e così tutta l'Infinity Saga la saga della Marvel Cinematic Universe da l'Iron Man sino appunto a Endgame tutta quella saga ha realizzato degli incassi stratosferici appunto Infinity War, Endgame, Civil War dei successi incredibili da appunto poi finanziare anche altre produzioni perché i produttori quando incassano così tanto a volte poi danno vita anche ad altre produzioni ovviamente c'è chi dice che l'universo invece di Kevin Feige l'ideatore di fatto di questo Marvel Cinematic Universe ha voluto realizzare quell'universo della Marvel al cinema come Stan Lee e Jack Kirby avevano realizzato un universo Marvel nei fumetti bene, Kevin Feige è di fatto il grande mentor di tutto ciò ebbene non sempre poi questo cinema ha detto che va ad alimentare altro cinema però sicuramente questo universo creato a Kevin Feige ha alimentato tutto l'indotto del cinema a tutti coloro che lavorano nel cinema ripeto, dalle sale, dunque dei distributori a coloro che fanno poi gli sceneggiatori che sono di costumi nel mondo americano in questo caso hanno avuto una ricaduta e hanno avuto poi anche tutti gli eventi ma questa non è una risposta uno potrebbe dire certamente gli eventi dall'album delle figurine ai fumetti ai costumi, ai cosplayer agli eventi con sponsor, alle serate tutto in questi dieci anni sicuramente è cresciuto sotto il marchio della Marvel ma quello non è cino dunque i grandi incassi non vanno utilizzati come risposta per dire a Scorsese Coppola e Ridley Scott guardate siete appunto fuori tema perché il pubblico premiandoli dice che è cinema però questa seconda argomentazione va presa in considerazione perché qua vado anche a un po' gli albori del cinema perché il cinema è divertimento il cinema è anche un saper raccontare storie il cinema racconta personaggi racconta eroi, anti-eroi buoni, cattivi e intriso di mito il cinema dell'orrore tedesco-americano tra anni 20 e anni 30 erano delle storie raccontate per far paura per far sorridere, per farsi abbracciare per distrarsi quando si andava al cinema poi anche per me Boris Karlo Bea Lugosi, i mostri della Marvel il cinema espresso tedesco da Murna appunto a Fritz Lang è inarrivabile perché sono dei geni perché hanno dettato un linguaggio l'ho costruito dei mondi in un periodo proprio in cui era tutto complesso perché siamo forse agli albori dunque hanno dei meriti incredibili e con gli effetti speciali che hanno realizzato con quelle appunto strumentazioni a disposizione hanno dimostrato di essere degli artigiani ingegneri del cinema però cosa c'è in quel cinema? c'è comunque il divertimento, la paura l'abbracciarsi, lo svagarsi, il seguire una storia l'immaginarsi all'interno di quelle storie parteggiare, scegliere eroe, anti-eroe e poi delle icone appunto Boris Karlo Bella Lugosi, Lonceni Padre, Senior e Junior dunque c'è tutto anche un apparato di attori che appaiono e che ritorno nei film e diventano appunto più che mai volti noti che ritornano dunque familiari dunque per capire il successo del cinema della Marvel, Marvel Cinematic Universe bisogna partire da qui bisogna partire dai punti di forza e il punto di forza è tutto l'arco narrativo certo puoi discutere l'epicità del Signore degli Annelli di Peter Jackson magari per uno può essere più superiore può essere più avvincente può essere più forte ecco, però attenzione c'è dell'epicità nella saga complessiva dal primo Tony Stark, Iron Man che ha le prese con anche i propri dilemmi morale per produrre armi che vengono poi vendute a terroristi e che alimentano la spirale guerra e terrorismo sino ad arrivare ai dilemmi di Capitano America nella guerra mondiale per passare agli amori non corrisposti anche lì tra Iron Man il mondo di Thor il mondo di Capitano America per passare appunto alla saga anche molto divertente istrionica di Guardini della Galassia per arrivare al nuovo Spider-Man quando appunto acquisisce poi anche i diritti la Marvel di Spider-Man Spider-Man come un ragazzo di quartiere sì semplice ma che affronta i grandi temi la scuola, il bullismo che erano tipici di Spider-Man le grandi sfide da grandi responsabilità da grandi poteri derivano grandi responsabilità dunque il tema delle responsabilità il tema delle scelte il tema dell'individualità ma della collettività c'è un'epicità all'interno della saga un arco narrativo complesso un arco narrativo robusto e poi le musiche a un certo punto diventano un marchio che ritorna vale per Star Wars vale per Star Trek vale ormai per la Marvel gli attori bravi attori bravi attori che rimangono a interpretare gli stessi personaggi per un lungo periodo dunque diventano più che mai appunto delle icone familiari e dunque quella è la vedova nera quello è Iron Man quello è Thor e quello è Capitano America quello è Hanman è Bruce Banner quello è Hulk e via e via discorrendo e poi c'è tanta ironia dialoghi comunque avvincenti non è Berman non è Woody Allen non sono i film di Antonioni di Wim Benders neanche i dialoghi del padrino neanche i dialoghi o la fotografia di Martin Scorsese di un taxi diver non c'è Marlon Brando a fare il colonnello Kurt non siamo nell'epicità appunto della guerra del Vienna ma sono attori incredibilmente bravi e hanno tanta ironia prendono in giro la dimensione muscolare prendono in giro l'arroganza dell'America pensate ovviamente dato da un film pop dato da un film blockbuster ma nell'Iron Man 3 c'è tutto il tema del mandarino che in realtà è stato creato come nemico all'interno degli stessi Stati Uniti per alimentare una spirale di guerra di tensione per alimentare dunque poi la vita delle armi dunque c'è anche storia ripeto c'è storia per un cinema non impegnato ma che nonostante non sia impegnato presenta temi appunto etici il coraggio il ritorno a casa la patria perduta ci sono temi di temi shakesperiani ovviamente in Thor in Loki il tema della corona della fedeltà il tema del rapporto con il padre con la madre il tradimento la fratellanza c'è il tema dell'esodo addirittura in Thor l'abbandonare il pianeta la casa ci sono gli amori appunto tra umani e non umani dunque amori come potremmo dire tra dei e umani cioè c'è un arco narrativo comunque robusto ricco attori che ritorno c'è ironia ci sono colpi di scena ci sono delle morti importanti intorno alla morte si può ragionare tutto è spettacolare certo ma com'è spettacolare il cinema di intrattenimento di avventura da sempre Indiana Jones avventura poi uno può dire quello è più cima perché? perché c'è meno chiaramente lavorazione al computer perché è più fresco perché è originale perché è meno ripetitivo ma sono tutte critiche che ci stanno ma dire che uccidono il cinema che è la morte del cinema che sono orribili brutti patetici io penso che sia un giudizio affrettato un po' anche probabilmente dettato dalla difficoltà di fare un altro tipo di cinema perché il gusto è quello si sta plasmando sempre più in questa direzione ma rimangono altre vie altre strade siamo in presa di un cambiamento ma non della morte del cinema Cari Scorsese Coppola Cameroon e via discorrendo Ridley Scott quando è nato il cinema si pensava che il teatro finisse oggi il teatro va avanti va avanti certo è di minoranza il teatro ma c'è teatro sperimentale c'è teatro appunto circo c'è teatro poesia c'è ci sono mille forme di teatro il teatro di ragazzi va avanti c'è il teatro popolare ci sono mille forme di teatro c'è il teatro classico c'è il teatro contemporaneo sperimentazioni e la gente va a teatro va di meno ma va a teatro e magari è aumentata anche la qualità di un certo tipo di teatro e così come quando è nato appunto i cd le musicassette cd è poi asciutto la musica digitale su Spotify tu iTunes sui portali è la fine del vinile è dunque la fine dell'album del concert album di un album che è fatto di 8 tracce 12 tracce si narrava un clima un'atmosfera si narrava non sarà più possibile non è vero gli album continuano ad esistere certamente le persone si fanno delle playlist che spesso sono delle macedonie macedonie emozionali motivazionali quando sono triste quando sono allegro quando voglio ascoltare la musica italiana straniera però la musica non è morta e gli album non sono morti c'è chi fa il vinile c'è chi fa dunque il disco chi fa ancora il concert album certamente meno meno ma non è la fine c'è una diversificazione perché viviamo in un mondo liquido in un mondo costantemente in cambiamento costantemente contaminato in un mondo molto più appunto articolato molto più complesso ma la marvel cinematic unit non sta uccidendo il cinema ha dato vita a una nuova forma di cinema ma non sono tutti uguali i prodotti quanti in Tarantino c'è ancora a fare il suo cinema il cinema italiano di commedia che secondo me è di basso livello cui continua ad esserci dovrebbe interrogarsi perché adesso sull'alzare il livello di dialogo il livello anche attoriale Zero Calcare ha fatto una serie tv che è difficilissima è in romanesco si capisce bene secondo me racconta una storia minimalista e ha avuto un grandissimo successo dunque non è soltanto quel disegno fumettistico marvel che può andare avanti il mondo dei manga e degli anime fumetti cinema giapponese continua ad andare avanti il mondo del cinema coreano che comunque racconta delle inquietudini sì molto pop molto commerciali ma inquietudini in un modo diverso il controllo di Squid Game comunque è uno spaccato della società coreana sud-crania che è intrisa di competizioni di esclusioni ce l'ha già raccontato Parasite quel cinema di storie continua ad esserci le commedie francesi i noir francesi continua ad esserci un certo tipo di cinema meno visto probabilmente sui grandi numeri meno visto ma magari questa anche difficoltà porterà a nuove sperimentazioni nuove contaminazioni porterà a nuove idee pensare che la crisi del cinema ma sia dell'amaro di cinema io penso che sia indicare appunto il bersaglio sbagliato anzi ha aperto un nuovo mondo di narrazione ha riproposto miti leggendi questioni appunto epiche a volte noiosi alcuni sono noiosi alcuni sono ripetitivi ma come sono noiosi ripetitivi tanti film western di guerra di mafia nel passato è che tutti i film di Scorsese sono dei capolavori per me parliamo già di uno che li ha fatti quasi tutti dei capolavori ma non tutti sono Scorsese Coppola Ridley Scott i suoi film chiaramente li ha sbagliati ma ne ha sbagliati anche Currosava e parliamo di tre forse più grandi registi anche Kubrick ha i film meno riusciti e più riusciti ma non è che tutto il cinema è Kubrick Currosava Hitchcock Scorsese Coppola c'è anche un altro o tutti sono le commedie appunto di Billy Wilder o appunto il film impiato di Wenders di Antonioni o di Fellini ci sono anche le commedie più leggere la gente andava a vedere Franco Franchi Ciccingrassi andava a vedere Buzz Spencer e Terence Hill andava a vedere un western non solo quello di Leone ma anche film magari minori e c'era nella grandiosità di quella narrazione o il cinema di Argento di Pupiavati e poi quello americano c'erano film più belli o meno belli quanti grandi risi hanno fatto di film noiosi certo la Marvel ovviamente nella quantità di film più lenti più noiosi non lenti come narrazione il film di Villeneuve Dune a me è piaciuto ma è un film presuntuoso perché un film non può finire in quel modo lì dando per sconto che vai a vedere l'altro perché quel film non è concluso non è concluso allora mi fai una serie tv ma un film al cinema e a me la fotografia di Dune è piaciutantissima non può chiudirsi in quel modo cioè chiediamoci anche perché uno incassa di meno quello non è un film che può incassare tanto che porta molti spettatori perché è noioso perché è troppo lento e il mondo è veloce la colpa non è solo il mondo veloce si devono anche educare le persone alla lentezza ma senza presunzione dunque per me lunga vita al Marvel Cinematic Universe ma lunga vita chiaramente alle commedie italiane e alle commedie francesi speriamo che ci sia una rinascita lunga vita al cinema dell'orrore italiano speriamo che rinasca con forza qualche buon prodotto c'è lunga vita al cinema in generale la cosa importante è che ci sono dei buoni film anche quelli che escono straight to home un tempo si diceva sulle ovviamente piattaforme digitali Amazon Prime Infinity Netflix speriamo un giorno che anche la Rai investa più in questa direzione ben vengano i bei film le belle storie ben recitate con dialoghi avvincenti o con narrazioni avvincenti con ovviamente anche una dimensione di continuity di affiliazione e questo è il merito di successo ovviamente la causa del successo della Mara aver creato un universo in cui le persone si riconoscono cui vivono emozioni certo emozioni poi veicolate al commercio sì ma anche i film dei grandi registi alla fine avevano un commercio avevano un merchandise chiaramente Luca su tutto il più grande impero e quello di Star Wars e quanti film di Star Wars sono noiosi l'ultima trilogia ha molti momenti noiosi è chiaro e quando ripensiamo al passato non dimentichiamoci mai che si assume sempre un'aurea mitica perché era il nostro passato quello era il nostro cinema dunque ci piace di più perché era il nostro sentiamo nostre quelle canzoni nostre quelle mostre nostro quel cinema nostro quasi quell'album delle figurine che è più bello quello degli anni 80 il calcio nostro era più bello alle ore 15 tutte le partite lì 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 da ascoltare neanche da vedere chiaramente e non vuol dire che non possa essere più bello però non arrocchiamoci a difesa di un passato trasformandolo in mitico in aureo diciamo di capire anche le bellezze di oggi all'interno del Cinematic Marvel ci sono tante bellezze l'ultimo Spider-Man secondo me alcune idee veramente molto belle alcune tematiche molto importanti certo che ritornano ed è un divertimento per grandi piccoli per famiglie per il single solo etero gay bianchi neri raw e l'universalità della Marvel la forza e regalare emozioni e divertimento che poi alla fine è il grande segreto del cinema